Ciao Mimmo, allora devo provare questa rbia rise ho visto che c'è un nuovo cambio elettronico XT là dietro, che cos'è? Esatto, la novità di Shimano, un cambio elettronico XT 11 velocità collegato al nuovo P8 801 di seconda generazione con la tecnologia AutoShift e FreeShift AutoShift, FreeShift, cambio automatico? Esattamente, è un cambio automatico, una cambiata automatico con due diverse tipologie AutoShift cambiata automatica pedalando, invece FreeShift cambiata automatica senza pedalare Detto così sembra veramente una bella cosa Esatto Bene, ora tocca a testarla Beh, in effetti adesso vado a fare una bella ride con i ragazzi di Orbea Così provo, torno, ci vediamo allo stand e ti dico come mi sono trovato Ottimo, allora buona pedalata Grazie mille Grazie a te Grazie a te Ciao mia, bene, come è andata la pedalata? Benissimo, guarda, veramente bene La Rubia Rise è super, la sento molto bassa, bella leggera come bike, super compatta, divertente, ma la cosa è FreeShift e AutoShift sono all'inizio stranissimi perché abituato a usare il manettino, dici cavolo cosa devo fare? Quando capisci che il manettino lì nel caso ti servisse ma tu non lo usi più, mano sulla manopola, sempre in controllo e fa tutto lui Ci vuole trovare il manettino Ci vuole trovare il giusto setup, secondo me bisogna perdere un po' di tempo a trovare il giusto setup per il tipo di pedalata che ognuno ha Penso che la prossimo step è quello di personalizzare punto per punto sia AutoShift Esatto, una volta che trovi la tua personalizzazione diventa super utile La cosa che trovo più utile in assoluto, visto che si parla di e-bike, è che chi è alle prime armi con un e-bike e ha di solito grossi problemi di catena che si rompe perché parte in boost con cambi troppo lunghi Quindi questo risolve tutto e probabilmente niente più catene strappate per quelli e-bike Bene Andrea, ti ringrazio e grazie da parte di Shimano Ma guarda, sono io che devo ringraziare voi, Orbea, perché la possibilità di provare la Ryze FreeShift AutoShift è stata veramente una grande opportunità, quindi ancora grazie Ottimo, alla prossima, ciao